un cordiale saluto un buongiorno una buon inizio mattinata oggi è martedì 18 agosto 2020 questa è la rassegna stampa occhio ai giornali che come sempre tra poco vi farà vedere quelle che sono le notizie più importanti le pagine dei quotidiani corriere e carlino che abbiamo selezionato per voi oggi la chiesa ricorda sant'elena sant'elena madre dell'imperatore costantino il sole è sorto alle 6 18 e tramonterà le 20 e 11 minuti uno sguardo al tempo che oggi cambierà peggiorerà con pioggia che è possibile durante la prima parte della giornata con isolati brevi rovesci sui settori costieri centro settentrionali al pomeriggio invece rovesci o temporali sparsi per quanto riguarda domani ancora al mattino avremo cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti lungo la fascia costiera centro settentrionale in veloce transito verso oest al pomeriggio attività comuniforme confinata sui settori montani meridionali al mattino domani avremo non si escludono occasionali piovaschi o brevi rovesci sui settori costieri settentrionali al pomeriggio locali rovesci o temporali sui settori meridionali in montagna e in collina il tempo invece migliora giovedì 20 agosto dove avremo temperatura in ripresa cielo sereno su tutta la regione Marche e tempo buono e stabile anche e anche molto soleggiato per tutto il resto di questa settimana non ci lamentiamo del caldo perché andiamo a vedere se abbiamo intanto Tommy il nostro eccolo qua eccolo qua questa mattina lo scenario Tommy buongiorno è assolutamente diverso da ieri vedo dei nuvole delle nuvole del cumulonembi in fondo a te dietro a te minacciosi sì 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 oggi come previsto prevediamo un peggioramento per quanto comunque è una giornata abbastanza incerta un po' di speranza ce l'abbiamo sempre vediamo se riesce ad allargare o se rimane in peggioramento beh intanto godiamoci questo mare color argento non so bene insomma queste barche e vongolare che stanno rientrando in porto insomma uno comunque deve essere un'atmosfera molto bella anche di silenzio no sì sì assolutamente regala sempre emozioni questo mare soprattutto a quest'ora alle sette del mattino quando non c'è il vociare dei bambini che urlano le mamme che gridano oppure insomma tutte queste cose c'è un po' di silenzio immagino in questo momento solo rumore dell'acqua assolutamente bello grazie allora ci vediamo domani intanto no dicevo non non lamentiamoci perché nella valle della morte in california già il nome tutto un programma ma nella valle della morte che il punto più caldo della terra sono stati toccati 54.4 gradi quindi 54,4 gradi centigradi è un come dire un dato certificato anche dal servizio meteorologico nazionale degli stati uniti è il punto come dicevo più caldo del pianeta terra e quel territorio come vedete insomma è costellato anche di cartelli che invitano le persone a stare attenti ai colpi di sole anche se a giudicare dalla fotografia che hanno fatto questi 4 o 5 temerari coraggiosi devo dire sicuramente sarà un caldo secco un caldo comunque sopportabile non umido perché vedo le magliette indossano le magliette nessuno è sudato per cui immagino che sia sopportabile insomma e tra l'altro adesso a parte gli scherzi un'ondata di calore che sta investendo la costa ovest degli stati uniti ha portato anche due giorni di blackout per il sovraccarico dei condizionatori e adesso torniamo invece nella nostra terra e godiamoci i nostri 30 gradi e quindi insomma 24 gradi in meno insomma fa un certo effetto solo al pensiero e torniamo a parlare della bolgia al mare di ferragosto di questo parlano oggi in maniera anche approfondita con toni polemici giornali in edicola questo è il corriere adriatico edizione di pesaro tutti contro tutti praticamente a pesaro a questo punto possiamo dire i sindacati contro il sindaco ricci l'assessore vuole multe esemplari sono stati già annullati gli eventi la conf commercio difende i gestori che invece ligi che si sono comportati bene che hanno rispettato le regole intanto tamponi checkpoint al porto sempre di pesaro perché arriva dalla croazia rigore sulle mascherine dopo le 18 niente partitella a basket a pesaro i vigili hanno fermato un gruppo di ragazzi che giocava e non aveva le mascherine intanto la fotonotizia del corriere questa mattina è per le infrastrutture anche oggi si parla di trasporti di viabilità di spostamenti la tratta bologna ancona la finta velocizzazione al nord delle stazioni sono pronte quelle dei treni da noi invece no sotto invece ciclista si schianta sul nerone contro una parete di sassi a urbino mira il fiore petizione per bloccare il taglio antidroga ai cespugli e a fossombrone ospedale da potenziare le urgenze dei giorseri con la lungodegenza poi di taglio qui di spalla invece la politica movimento 5 stelle e purati pesaresi che volevano l'alleanza con il partito democratico tecnicamente dunque tutto a posto ieri marcorelli del 5 stelle era camerino per un incontro con il rettore pettinari nella pratica invece nel movimento 5 stelle che ha votato per accettare le alleanze con i partiti c'è maretta il gruppo peserese rivendica i meriti di aver aperto la strada il facilitatore fede li espelle dalle chat e marcorelli in audio delle chat dice in molti vi sento demotivati in sostanza a pesaro come aveva detto ricci abbiamo anticipato i tempi prevedendo un'alleanza tra il movimento 5 stelle il pd anche a livello regionale per appoggiare mangiallardi in realtà tutto questo pare non avverrà la pandolfaccio invece per elisa emozioni al palio teatrale la nuova versione dedicata alla giovane morta a luglio in scena avrebbe dovuto interpretare la parte della musa parliamo di elisa mascarucci che è deceduta improvvisamente all'età di 24 anni qualche settimana fa a causa di un infarto dopo aver trascorso una serata come animatrice andiamo a vedere la prima pagina invece dell'arresto del carrivo di pesero anche qui a centro pagina i bagnini multati soltanto due bufera dopo i balli di ferragosto i sindacati di polizia attaccano il sindaco ricci io violentata invece da un da un mio amico è una storia che arriva da fano una minorenne accusa un 19 anni il fatto sarebbe avvenuto in spiaggia lei è già stata ascoltata ieri in tribunale il titolare della baia imperiale invece dice è giusto chiudere le discoteche ma altri no dicono è il disastro così è il disastro sono reazioni da gabice mare a marotta l'asur si attrezza invece la lotta al contagio tamponi al porto per chi rientra dalla croazia e poi invece fanno dice addio a rossini il fondatore del ristorante pesce azzurro le storie del covid israele mi tiene lontano dalla famiglia l'odissea dell'ex pugile andrea magi un visto mi impedisce di tornare a tel aviv verso le regionali invece pd e grillini l'alleanza impossibile intanto l'ex questore italo d'angelo figura nella lista di mangialarti allora dicevamo di questi tamponi obbligatori entro 48 ore per chi rientra ad alcuni paesi considerati a rischio come croazia grecia malta e spagna tamponi checkpoint in porto per i turisti di rientro dalla croazia già in funzione a pesaro il presidio sanitario che è stato allestito dall'area vasta numero uno ma questa settimana potrebbe essere l'ultima per il catamarano veloce infatti al porto di pesaro i soggetti rientrati rientranti dalla croazia a mezzo all'iscafo potranno sottoporsi al tampone naso faringeo all'atto dello sbarco poiché ci sono degli operatori sanitari addetti stop ai viaggi invece perché nelle prossime ore gorotur e l'armatore croato del catamarano dovranno decidere se come sembra probabile interrompere gli approdi verso la croazia in anticipo rispetto alla prima settimana di settembre una decisione certo sofferta dice paolo gorini la situazione però è delicata in evoluzione lo dicono i numeri solo nel giorno di ferragosto scrive Letizia Francesconi sul giornale di questa mattina solo il giorno di ferragosto sono partiti 75 passeggeri su un totale di 300 tutti gli altri soprattutto giornalieri o per vacanze corte avevano già disdetto mentre un solo caso a pesaro nelle ultime 24 ore questa è la lista quotidiana giornaliera del gores intanto per il 63esimo giorno consecutivo nessuna vittima nelle marche riferibile al coronavirus ma la lista dei deceduti nella provincia di pesaro urbino è comunque sempre molto alta il giornale lo ricordo questa mattina sono morte qui 523 persone ma quello che preoccupa in questo momento è anche a scolipiceno dove ci sono sei persone in che sono state trovate appunto positive al covid 19 a proposito di di casi e di focolai vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di un focolaio a fratte rosa siamo qui nel pesarese la notizia buona è che non c'è nessun altro caso positivo a fratte rosa e che l'altra notizia è che sono attesi entro 24 massimo 48 ore i risultati sulle tre persone in quarantena poste in isolamento domiciliare dopo che sono entrati in contatto con il francese oriundo risultato positivo al covid è quel turista francese che ha parenti nella frazione di torre san marco di fratte rosa e che adesso è tornato in francia nel suo paese d'origine ma che è stato diciamo l'origine scatenante di questo focolaio il sindaco di fratte rosa alessandro valtroni dopo il video messaggio invita a mantenere la massima attenzione dice non abbiamo notizie di ulteriori casi positivi la situazione generale resta stabile e tuttavia continuiamo ad invitare tutti ad osservare le dovute precauzioni quali indossare le mascherine ed evitare luoghi di assembramento i pazienti attualmente ricoverati non sono gravi e riconducibili al cluster originario restiamo in attesa dell'esito dei tamponi sulle persone in quarantena il focolaio è stato rintracciato e isolato grazie ai controlli medici e sanitari in corso dopo che era scattato l'allarma per un francese in vacanza presso i parenti che aveva manifestato i sintomi tipici ora ricordiamo che a fratte rosa c'è l'obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto nelle pertinenze dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici dove ci sia la possibilità di formarsi assembramenti dalle 18 alle 6 del mattino per quanto riguarda invece e qui vedo che i giornali questa mattina non ne hanno parlato ne abbiamo parlato ieri invece noi nel corso del telegiornale l'unica persona l'unico paziente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Marche Nord in tutta la regione Marche comunque è un fanese di 60 anni ieri vi avevamo dato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute è lievemente migliorato ha effettuato ieri il terzo e ultimo ciclo di plasma iperimmune è una terapia quella del plasma che viene effettuata soltanto nell'azienda ospedaliera Marche Nord seguendo un protocollo, un bademeco, un ben preciso a questo plasma è stato aggiunto anche un farmaco del quale adesso non ricordo il nome ma che comunque dicono funzionare in questi casi è migliorato, è lievemente migliorato ma come succede in questi casi bisogna essere prudenti e quindi attendiamo ancora qualche ora per poter dare altre notizie e ovviamente speriamo che siano sempre buone notizie anche perché il primo paziente che è stato curato con la terapia del plasma iperimmune un 67enne di Mondavio è miracolosamente, lo diciamo tra virgolette però è successo è assolutamente, completamente guarito e non era messo tanto bene e questo è successo grazie a questa terapia del plasma iperimmune quindi questa è la seconda persona che viene trattata con il plasma vediamo e speriamo per lui niente partitella basket lo troviamo sui giornali non avevate la mascherina non avete la mascherina quindi un gruppo di giovani è stato redarguito dalla polizia a Pesaro dopo le 18 a Tombaccia perché sapete che c'è quest'ordinanza che dalle 18 fino alle 6 del mattino è prevista la mascherina obbligatoria e quindi i poliziotti li hanno bloccati i controlli in ritardo responsabilità politica vigili sono solo un capro espiatorio SILP, SILP, CGL e CISL contro Ricci per le feste Sottomonte a Ferragosto pensare che l'anno scorso lo stesso sindaco ci aveva criticato per le multe mentre i gestori dicono la musica è stata spenta e abbiamo annullato anche le altre iniziative impossibile intervenire senza creare in spiaggia delle situazioni a rischio mentre sul Carlino sindaco eri tu che dovevi fare prevenzione i sindacati di polizia e i vigili replicano a Ricci perché non hai vietato la musica perché non hai chiesto al prefetto una riunione dunque puntuale ed inevitabile arriva la reazione dei sindacati delle forze di polizia dopo le parole di Ricci dovevate controllare di più questo aveva detto nel messaggio tra l'altro postato anche su Facebook ma la responsabilità di quanto accaduto in tanti locali al mare con incredibili assembramenti scrivono i sindacalisti sono solo politiche responsabilità dunque politiche non ha senso vietare con ordinanze ciò che è già vietato quindi balli, feste, in spiaggia e concedere alla musica pensando che i giovani stiano seduti ad ascoltare ci hanno avvertito i cittadini di quanto stava accadendo sotto monte chiedendo il nostro intervento e molti criticavano il sindaco mentre Baldelli Francesco Baldelli mette il dito nella piaga che caos tra Ricci e Ceriscioli discoteca nel caos Ceriscioli apre Conte chiude Ricci punta il dito su giovani e forze dell'ordine stoppiamo i trapper della politica italiana ed esprimiamo solidarietà alle forze dell'ordine dice Francesco Baldelli vicepresidente Anci ed esponente di Fratelli d'Italia nessun locale questa è l'ordinanza vecchia nessun locale ha l'autorizzazione per il ballo gli stessi che negli anni scorsi per lui potevano invece organizzare le feste già due locali sono stati sanzionati titola il Corriere Adriatico le multe devono essere esemplari l'assessore Pozzi dice interventi in ritardo vedremo aspetto la relazione la relazione del comandante della polizia locale intanto mano pesante per i furbetti la chiede il paso della Conf Commercio che chiede rispetto però per i gestori che sono stati ligi alle regole purtroppo dice ce lo aspettavamo al menefreghismo della gente che si è dimenticata troppo velocemente cosa abbiamo dovuto sopportare solo pochi mesi fa si è giunta l'incongruenza di chi emanava ordinanze che non avevano senso si può mettere la musica ma non si può ballare multati due bagnini titola il resto del carino gli altri se la cavano tante le segnalazioni di caos in vari stabilimenti ma non ci sono prove di violazioni i commenti di Conf Commercio e Conf Esercenti più di 1000 euro la montare del verbale per ogni titolare sanzionato a Fano invece che cosa è successo a Fano? a Fano c'era praticamente la stessa ordinanza però come abbiamo visto i bagnini hanno agito in modo diverso niente balli niente musica hanno preferito una giornata light una giornata tranquilla e così è stato ma la differenza come sottolinea Massimo Foghetti questa mattina sul Corriere Adriatico qual è stata? l'approccio diverso tra Pesaro e Fano mentre Pesaro ha optato per la linea dura a Fano i vigili al posto di fare le multe consegnavano e davano le mascherine a coloro che ne erano sprovvisti a Pesaro si agisce con la linea dura scrive Foghetti a Fano con la gentilezza due modi diversi di affrontare a Ferragosto il rischio coronavirus segno di quanto non sia affatto semplice contrastare la diffusione dell'epidemia che anche con il caldo non cessa di coinvolgere giovani e anziani in entrambe le città in vigore un'ordinanza che obbliga tutti i cittadini a indossare in fine settimana la mascherina dalle 18 di venerdì alle 6 del mattino di lunedì successivo nei luoghi particolarmente a rischio ebbene ordinanza che tra l'altro ora è stata ampliata dal provvedimento del governo che stende l'obbligo sette giorni su sette fino al 7 di settembre anche nell'ultimo fine settimana le trasgressioni sono state tante ma mentre a Pesaro sono fioccate le multe per le trasgressioni rilevate all'interno dei locali a Fano i vigili se incontravano una persona a volto scoperto gli offrivano una mascherina una reazione a pensarci bene non superficiale o particolarmente indulgente ma efficace nel proporre una buona lezione di comportamento il problema qual è? è che però anche con le buone maniere non tutti l'abbiamo già detto ve l'abbiamo già raccontato l'altro giorno non tutti sono disposti ad indossare quelle che qualcuno chiede dicono banalmente la museruola cioè la mascherina indossiamo questa museruola qualcuno lo fa con stizzito ebbene ad Ancona come scrive il Corriere Adriatico è successo questo scenda non ha la protezione spacca due vetrate dell'autobus viaggiatore prende a pugni il mezzo e lo danneggia con una bottiglia come vedete non tutti sono per la linea sia dura che morbida quando si impuntano poi non c'è verso andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico perché il Corriere ricorda la pandolfaccia per Elisa emozioni al palio teatrale una nuova versione anti-covid dedicata alla giovane morta a luglio avrebbe interpretato la musa e dunque i ragazzi e le ragazze della pandolfaccia che hanno dato vita a questo palio delle contrade all'arena Rashtat hanno voluto dedicare questo spettacolo a Elisa Mascarucci deceduta improvvisamente all'età di 24 anni a causa di un infarto nella notte tra il 16 e il 17 luglio scorso dopo aver trascorso una serata come animatrice sul palazzetto dello sport di Fano abbiamo un palazzetto a dir poco lasciamo stare affidato il progetto nel senso a dir poco è bello tutto quello che volete è ancora funzionante funziona bene ed è una grazia averlo però è ora di cambiare o meglio è ora di farne uno nuovo e questo nuovo impianto sorgerà dove? a Chiaruccia avrà 3.000 posti costerà però più di 5 milioni di euro previsti in era pre-Covid dunque c'è questo passo avanti nella realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport da 3.000 posti a Fano la Giunta Comunale ha affidato un incarico professionale a Federico Politano titolare e legale rappresentante dallo studio EAT che è Ecologia, Ambiente e Territorio di Cartoceto per la redazione del progetto preliminare inerente la soggettibilità alla valutazione di impatto ambientale la VAS strategica anzi relativa alla variante per la costruzione di questo nuovo palazzetto la spesa prevista come dicevo 5 milioni di euro come noto sarà a Chiaruccia la zona dove sorgerà questo nuovo impianto sportivo dopo le indicazioni pervenute all'amministrazione comunale dai due tavoli tecnici che avevano preso in esame diverse località del territorio fanese e dunque si va a completare così l'iter urbanistico ha detto Fanese l'assessore al territorio che troverà la sua conclusione con l'approvazione della relativa variante l'assessore dello sport Caterina Delbianco dice occorrerà procedere a una attenta verifica post covid delle risorse che si potranno mettere in campo sia pubbliche che private infatti si era partiti con una previsione di 5 milioni di euro ma siccome è in intenzione di fare un palace da 3.000 posti aumentabile in caso di concerti la cifra nel frattempo è lievitata e questo questo la dice lunga ma comunque il fatto è che un palazzetto dello sport nuovo più capiente è necessario per la città di Fano e intanto sempre a Fano ma questa volta dal Carlino scoppia l'allarme affitti famiglie in difficoltà prorogato il bando per il sostegno c'è chi cerca alloggi popolari a canone agevolato lo dice giovanelli della Cisle va superata la logica del contributo occorre pianificare politiche abitative la città perde uno chef chi è questo chef Giulio Rossini è il fondatore del pesce azzurro negli anni 70 aveva poi aperto il ristorantino che portava il suo nome alla sua corte si era seduto persino Carlo Azzeglio Ciampi prima di diventare presidente principi e onorevoli andavano matti per i suoi sardoncini gli scotadito come si dice Giulio Rossini se ne è andato il 15 d'agosto a 94 anni ne avrebbe compiuti 95 a settembre pochi ricordano dice il figlio sante ricordano Giulio ma tutti sono stati ammaliati dalla sua cucina nel 1970 Giulio apre il ristorantino che porta proprio il suo nome e che adesso è portato avanti invece da Sante e Paolo i funerali di Giulio Rossini si terranno oggi pomeriggio alle 17 nella chiesa del Carmine poi sarà seppellito al cimitero centrale accanto alla moglie Carla Uguccioni mi ha violentata poi lo ha detto agli amici questa ragazza questa ragazzina di 17 anni accusa adesso un suo amico di 19 anni siamo a Fano siamo a Fano accusa questo ragazzo di 19 anni di averla violentata in spiaggia durante una passeggiata che lei considerava solo romantica l'aggressione sarebbe avvenuta il primo di agosto alle 3 di notte in zona Lido a Fano a fianco del Porto Canale lui però nega tutto e dice che la ragazza era consenziente seppur avesse bevuto un po' troppo così come lui e quindi insomma adesso uno che è pieno di alcol in corpo eccetera ditemi voi dove sta il romanticismo dove trovano romantico una passeggiata alle 3 di notte sul mare completamente ubriachi ci vuole un po' di fatica un po' di sforzo ma evidentemente avranno visto forse più stelle del dovuto la giovane ha ripetuto ieri davanti al magistrato la sua versione di fatti ora nessuno ci scherza su queste cose nessuno vuole fare battute chiaramente questa è una cosa seria c'è una storia di violenza se è così comunque una storia che si poteva evitare ma comunque è successa e quindi è giusto tenere come dire evitare ovviamente di scherzarci insomma nessuno ha scherzato chiaramente era solo per dire insomma come sta andando un po' la gioventù oggi ma oggi anche un po' ieri il ristorante cinese troppo sporco i carabinieri lo chiudono si trova in Viale Trieste riscontrata la mancanza di prodotti igienizzanti anti-covid un ristorante cinese del quale abbiamo parlato anche nella giornata di ieri intanto la proloco della provincia si ritrovano per nuovi obiettivi il presidente Damiano Bartocetti ha ripercorso il lavoro fatto e le difficoltà superate zero soldi per le stazioni di Pesero, Fano e Loreto al nord invece le hanno già fatte tre nodi per Bologna-Ancona così c'è una velocizzazione di serie A e una velocizzazione di serie B a Urbino in bicicletta contro un muro sul Monte Nerone un turista veneto residente in Belgio soccorso vicino ai tralicci della RAI necessari all'elembulanza l'uomo ciclista amatoriale ha perso il controllo in sella rovinando contro un'alta parete di sassi l'ex questore d'Angelo nella lista di Mangialardi l'ex ursus di Italo prima un candidato con Forza Italia ora però con il centro-sinistra di questa fotografia c'è un Amarcord vedete il nostro vecchio microfono con il logo di Occhio alla Notizia va bene sette scuole in sicurezza invece Terra Roveresca è un buone notizie per il sindaco Dalla sindaco Sebastianelli problemi in tre sole aule che però sono stati praticamente risolti lo sport vai Fano la benzina c'è già mister Alessandrini lo vedete in questa fotografia nel campo sportivo di Fano dà il benvenuto ai Granata nel giorno del raduno si inizia con test medici le tante conferme sono un valore aggiunto dice dobbiamo ancora avere ancora la spinta dei playoff che sono stati vinti tre colpi a bersaglio invece ma adesso la Vis può aggiustare la mira la limitatezza delle rose impone la necessità di non sbagliare gli acquisti il club pesarese è a buon punto e ora si concede il lusso di una breve pausa la VL al suo regista può partire il film Justin Robinson è già in ritiro dopo il primo pit stop sanitario domani il secondo tampone e poi potrà unirsi al lavoro di squadra voglio chiudere con questa notizia visto che non c'è nessuno che si è fatto male ma solo una curiosità un incidente di lusso nel canton Ticino uno scontro tra super auto pensate alla fine il costo dei danni di questo incidente tra l'altro ripeto che non ha visto nessuno finire all'ospedale tranne un camperista ma poca roba il danno è di 3 milioni e mezzo di euro questo perché perché sono state coinvolte alcune auto di lusso come una Bugatti e una Porsche 911 e quindi questo per dire insomma coinvolte queste due auto erano in coda dietro un camper e questa è la notizia con la quale chiudiamo la nostra rassegna stampa stasera c'è un appuntamento come sempre con il telegiornale Occhio alla Notizia grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi ricordo che come sempre è disponibile il numero di telefono che vedrete in coda alla sigla e che è il numero che serve per le vostre segnalazioni buona giornata a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti Autore dei sovrapposti